Salve a tutti da GTA Guidesita, dopo aver fatto recensione di due server di Samp, una recensione di IOM, ora faccio una recensione di un server di MTA, cioè Multideath Auto San Andreas Non so quale scegliere, vediamo un po', vediamo un po', allora, 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 mettiamo questo va? Allora, se te lo metto, ecco, ok, si chiama Minigames 1.3, PCP Minigames 1.3, non l'ho mai provato perché praticamente già non gioco tanto a... No, non voglio update, ok, allora già non gioco molto a Samp, quindi figuriamoci a MTA, praticamente non ci gioco mai Quindi, vediamo un po' che cazzo si fa, se mi piace, se è una merda, altrimenti cambiamo e mettiamo un altro Se si muove sempre, ecco qui ci vuole, oddio, ci vuole, non deve scaricare 16 MB per entrare Che palla, allora stop il video e lo riapro quando finisce il download Ok ragazzi, credo che ci siamo Ok, scegliamo la squadra blu Ok, allora prendiamo M4 Desert Eagle Molotov Basta Night Vision Ok Ok, è già finito E' già finito il... sono arrivato troppo tardi, è finita la partita Ora ricominciamo un altro, secondo me Allora, una delle cose che non mi piacevano di MTA, che mi ero dimenticato, era proprio questa Cioè che... Ehm... Devi aspettare per giocare, ecco, scegliamo una squadra blu Devo difendere la base Devi aspettare per giocare Questa è una cosa che mi sta veramente sul cazzo Ecco, invece su Samp hai direttamente già tutto e nessuno rompe i coglioni Invece qui... no Devi aspettare Comunque, non mi importa Ehm... vediamo un po' com'è Dove cazzo sono gli altri? Ok, giochiamo va Vediamo dove sono sti coglioni Vediamo un po' Già ci sparano Dove e chi? Oddio, eccoli Sono già entrato nella base, coglioni Io non vedo un cazzo Dov'è quel bastardo? Esci in mezzo ai coglioni Ah, l'ha ucciso, l'ha ucciso, ok Ma Finora non... Cioè non abbiamo incontrato molti nemici Uno solo Finora Ora io sinceramente non so nemmeno che cazzo fare perché È la prima volta che entro in questo server Oddio, chi è quello? È un nemico? No, è un nemico mi pare Ecco Qui sono solo amici Ehm... E ora? Che si fa? Cioè non so dove cazzo andare Ecco, qua c'è uno di quelli rossi Sta arrivando I rossi sono i nemici I blu sono gli amici Ok C'è qualcuno che sta sorvolando la zona Ok, credo di aver trovato... Di aver trovato un nemico Ok, io ho tolto un po' di vita sotto la testa di cazzo Bene Mi ha spaccato il culo Ok, però io ho ucciso pure lui mi pare Credo Sono stato ucciso e non vengono spavvenato? No? Devo aspettare Cazzo devo fare? Ah, ecco Ok, devo solo aspettare Allora prendiamo sniper rifle stavolta Desert eagle Ehm... Ok, va bene così Va bene così Andiamo Andiamo di prendere a qualcun altro Diciamo che è carino Però sinceramente preferisco più Samp Anche se qui è pieno di mods Ed è... Devo dire che... Ha il suo fascino Giocare con le mod Ok Questo è un nemico Non muore con i colpi in testa? No? Niente? Vediamo se sto figlio di puttana esce Cazzo mi faccio schifo al pisciolo Porco... Ah Faccio proprio cacare al cazzo io Ho capito, dai Riprendo Prendiamo L'SMG Hanno messo la bomba Che cazzo hanno fatto? Bastardo Che cazzo fa questo? Ci siamo uccisi tutti e due No? Ma Buah Questa è bella Non ho capito un cazzo finora Ma Babbo Non sto capendo un cazzo Oddio mi sa che qua c'è un nemico Sto facendo proprio schifo Ok Quanto meno stavolta non sono morto Oddio Un elicottero Dai cazzo Uccidiamolo Oddio sono caduto in acqua porco Psss Per fortuna c'è questa scaletta Dov'è questo video Pintana Eh non muore Gli sparo col deserticolo e non perde vita di niente Com'è possibile? Vabbò dai Tanto ho perso io Oh Oh Almeno ho ucciso uno Quanto meno Quanto meno Ho ucciso uno Dove sono gli altri? Dai 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 È decisamente più difficile rispetto a Samp Ecco c'è un nemico C'è un nemico Andiamo a eliminarlo va Dove cazzo è? L'hanno ucciso? Sì l'hanno ucciso Ok Bene Ok ne arriva un altro Ne arriva un altro Sì eccolo Ecco mi ha già ucciso Benissimo Ho fatto male a buttare la molotov Vabbè non importa Ok Cambiamo ancora arma Ma prendiamoci Un M4 Dai forza Arrivano altri figli di puttana Ok ok Ci siamo Lassù c'è un nemico mi pare Dov'è questo figlio di puttana? Ah eccolo Si sta buttando col pare cadute Che figlio di puttana Si buttano col pare cadute Sti figli di puttana Ok Vediamo che posso fare Ah questo è un nemico Cazzo Ok l'ho ucciso Oddio Si può ricaricare Con la morte Hanno messo una bomba Cazzo Cazzo Ci deve essere qualche brutto Figlio di puttana Quello è uno Della sicurezza Ok è stato eliminato Con lui Dobbiamo prendere Questi cazzo Di nemici Devo dire che Questo server è carino Però Non è nulla di particolare Preferisco sample Lo ripeto Si certo Giocare Il multiplayer Con le mod Al suo fascino Però Cazzo C'è qualcuno giù Ok Ok l'ho fatto fuori Arriva qualcuno Figlio di puttana E qualcuno Non mi aiuta Vero Si fanno i cazzi Lors Di teste di cazzo Teste di cazzo Invece di aiutarmi Mi lasciano morire Ok va bene Abbiamo protetto la base Ho ucciso 4 Sono morto 5 volte Quindi faccio schifo al cazzo Però Va bene dai Diciamo che sono nella media Ok Sono un terrorista adesso Bene Ora gioco di nuovo Questa partita Poi basta Chiudo il video Perché sennò Faccio sempre video Di 30 Minuti E mi sta sul cazzo Dai andiamo Andiamo Forza Speriamo che questo coglione Del cazzo Sa guidare Ok ok Ci siamo Ok a me Lasciami qui Bene Non importa Se ho perso vita Ora andiamo a spaccare Il culo a tutti Forza Forza Dove sono Sti figli di puttana Andiamo dai No Che cazzo fa Che cazzo fa Ha Ha perso il paracadute Dove sono Dove sono Dove sono Dove sono Dove sono Andiamo 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 Posso sparare Se qualcuno Oddio Qua c'è un nemico Dai 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 Ok abbiamo messo la bomba Ok E' meglio seguirli va Tanto io non so un cazzo di questo server La prima volta ci gioco Gioco la MTA da due anni credo Oddio Oddio Sono tutti i nemici Che cazzo ci faccio Oddio Oddio Vabbè dai Ho ucciso uno E l'altro Ho ucciso me Ecco Sarò risparmato Dopo 20 secondi Va bene dai Se si muove Ok Prendiamo Va bene dai L'M4 Forza Cazzo Mi serve l'elicottero Prendiamo l'elicottero Andiamo va Quanto è il mio ping Cioè qua non si controlla Non si può Con tab su sample Controllo il ping E il punteggio Qui non so come cazzo si fa Va bene Intanto Andiamo Nella base nemica Forza Dai 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 Scappa scappa Ok ho eliminato uno Ragazzi Andiamo avanti Stavolta Sto giocando meglio Oddio È spuntato un altro video Di puttana Ok è morto Mi vogliono eliminare Sì Dai Morto Ok ragazzi Stavolta sto facendo molto meglio Rispetto a prima Cazzo Ce n'è un altro C'è un altro nemico Ah no è un amico E lui è il mio amico C'è da qua sono troppo lontano Infatti mi sta prendendo Bastardo Da qua Non posso fare un cazzo Devo avvicinarmi Ma Non posso avvicinarmi C'è quel figlio di puttana Che mi tiene d'occhio Ok Mi abbiamo eliminato un altro Fate attenzione A quel cazzo Di cecchino di merda Oddio Là c'è un altro Ecco Se sto gioco così E ci giochiamo tutti insieme Oddio C'è quel bastardo Che mi ha preso Figlio di puttana Stavolta sto facendo meglio però Dai 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 Se si muove Se passano questi 20 secondi Del cazzo Ok Ok Sempre stessi armi va Dai mi sta piacendo però Devo essere sincero E' carino come server Molto bello Non mi sta facendo incazzare Come mi fa incazzare sample E poi devo essere sincero C'è poco lag Veramente molto poco Proprio poco lag Infatti si gioca tranquilli tranquilli Quando spari Li prendi Quando sparano te Ti prendono Insomma è Non giusto Oddio Quel figlio di puttana Mi ha visto Infatti mi ha sparato Ho capito Non so che fare ragazzi C'è quel figlio di puttana Che mi Mi mira Ok Sono riuscito ad andare un po' avanti Così riesco a prenderlo meglio Ecco si è spostato pure lui Benissimo Mi sa che si è messo dietro il muro Eccolo Dai esci fuori Bastardo Dai Eh che cazzo Però quando gli butto le molotov Però ancora campano Vabbè dai Ne ho ucciso un altro Comunque Dai 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 Che forse questo video riesco a non farlo di 30 minuti Ok Ok prendiamo sempre l'M4 Dai vieni tu Non rompere il cazzo Dai muoviti Dai che è rimasto un minuto e 30 Dai Che cazzo fa Ha messo pausa La Vaffanculo vada Andiamo a spaccare il culo Qualche bastardo Dai 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 Andiamo 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 Bastardo Mi sta togliendo vita quel figlio di puttana Mi ha preso di nuovo cazzo Che cazzo è Ok 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 Mi ha ucciso un altro Anche se mi Oddio Oddio Questo non potevo proprio fare niente Stavolta Non potevo proprio fare niente Comunque sto uccidendo uno E uno mi uccide Sto uccidendo uno E uno mi uccide Quindi dovrei essere in parità Per quanto riguarda i kills E le volte in cui sono morto Dovrebbero essere 6-7 Ne cose del genere Ecco Dovrei Ecco 13 secondi Non vale la pena manco continuare Non vale la pena manco continuare ragazzi Tanto è inutile andare là Eeeh Niente Spero che questa Regen... Anzi Questa regenzione Se ti sia piaciuta Comunque Eeeh Ecco allora Sono morto 9 volte E ho ucciso 9 persone E sono secondo Quindi quantomeno Diciamo Sono migliorato rispetto a prima Eeeh Niente Eeeh Se vi è piaciuta questo video Questa regenzione su MTA Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi Ditemi se va bene Se continuo a fare così Cioè che regenzisco sia Samp Che MTA Oppure se vogliate Che faccia solo uno dei due Eeeh Spero Questo video mi pare Che è durato solo 20 minuti Una cosa del genere Perché Credo di si Quindi non sarà di 30 Come al solito Però se continuo a parlare Diventa di 30 Eeeh Eeeh Basta Se avete anche Anche per quanto riguarda MTA Se avete qualche server Da Da consigliarmi Me lo consigliate Magari Mi dite anche l'orario In cui volete giocare Se sono disponibile Io ci gioco E gioco con voi Bene Per questo video è tutto Eeeh Arrivederci